La sostenibilità ambientale è stato il fil rouge che ha contraddistinguto i progetti che hanno partecipato con successo al bando promosso da Fondazione Caripit di Intesa San Paolo, dedicato alla ricerca applicata e all'innovazione aziendale. Bando che mira a sostenere lo sviluppo del territorio e che ha messo a disposizione un budget complessivo da 100.000 euro. I fondi sono destinati a finanziare assegni di ricerca per laureandi magistrali. Si tratta del primo bando del genere emanato dalla Fondazione Pistoiese, con una risposta che ha visto la partecipazione di aziende del calibro di Itaci e Vannucci Piante. Ad aggiudicarsi il contributo sono state quindi anche l'azienda agricola Le Roncaccia di Cutigliano, la società Saperi e la Fabo di Larciano. Noi siamo soddisfatti dell'esito di questo bando che ha avuto la partecipazione di alcune delle aziende più rappresentative del nostro territorio, espressione degli ambiti di produzione anche più identitari come il vivaismo e il ferro tramviario. Gli stabilimenti di via Ciliegiole di Itaci vedranno lo sviluppo di una ricerca per riprogettare gli imballaggi dei materiali provenienti dai fornitori dell'azienda, mentre a Vannucci il progetto sarà dedicato al risparmio dell'acqua. Tra gli altri studi, quello per ricavare olio essenziale dalla coltivazione del timo alle roncacce e la produzione di nastri adesivi con un collante a base d'acqua alla Fabo. Infine, alla Saperi, si porterà avanti una ricerca sulla capacità di resilienza delle imprese. E diciamo siamo soddisfatti anche perché riteniamo che in questo modo si sia realizzato un po' l'obiettivo principale che era quello di stimolare il collegamento delle nostre aziende con il mondo dell'università e della ricerca. E questo consente il trasferimento della nuova ricerca prodotta dalle università e da centri di ricerca alle imprese del nostro territorio, facendo sì che esse possano essere più competitive sui mercati che affrontano. Un bando che vede la Fondazione Caripit insieme all'Intesa San Paolo. Che vuol dire lavorare insieme a progetti di questo genere? Per noi anche questo è un aspetto importante. Si ribadisce la collaborazione con Intesa, con la quale siamo intenzionati a portare avanti ulteriori progetti a sostegno proprio della promozione dello sviluppo economico del nostro territorio.